buona giornata amici da massimo foghetti ben trovati alla rassegna stampa di fano tv oggi è lunedì 24 aprile 2023 siamo nel mezzo di un ponte di fine mese un mese che ha veramente delle giornate festive interessanti che permettono appunto di allargare un po le vacanze abbiamo avuto quelli di pasqua ora abbiamo quelle del 25 aprile domani si festeggia la festa della liberazione la festa della resistenza e poi avremo anche un piccolo ponte il primo maggio ma intanto soffermiamoci appunto su questo ponte molte persone oggi non andranno al lavoro e vediamo chi è il santo del giorno vediamo che oggi si festeggia san fedele di sigmaringen una località della germania visse nel xvi secolo è un religioso capucino che diventò anche priore del suo convento e fu assassinato dagli eretici morì per la sua convinzione fedele fedele alla chiesa cattolica di nome e di fatto fu assassinato mentre cercava appunto di convertire gli eretici che lo avevano addocchiato appunto perché era veramente vehemente durante le sue predicazioni è un martire della fede san fedele di sigmaringen questo appunto il santo di oggi ed ora diamo un'occhiata anche alle previsioni del tempo vediamo che il tempo sta peggiorando rispetto al bel tempo che anche caratterizzato la giornata di ieri per fortuna il caldo primaverile è veramente arrivato è un tepore dolce quello che sta accompagnando le nostre attività la situazione la vediamo qui nella grafica la situazione del tempo è instabile specie nell'appennino con piogge e locali temporali in parziale estensione anche nelle aree costiere più fresco e ventoso il la temperatura il tempo comunque i venti spireranno sulle coste da nord ovest nell'entroterra da ovest e sud ovest e le temperature si sono alzate come ho detto le minime 13 gradi le massime 20 gradi questo un po è un inquadramento della giornata di oggi e allora apriamo i giornali a partire oggi dal corriere adriatico e diamo un'occhiata alla pagina di fano e si parla di turismo di un turismo particolare anzi diciamo meglio di un'iniziativa promozionale che è stata evidenziata e ideata dall'assessorato al turismo l'ha esposta in una conferenza stampa l'assessore tiene lucarelli e quella di fano outdoor fano open air nuove proposte per il turista di una vacanza slow ebbene fano ha molte attrattive sono state poi raggruppati in alcuni pacchetti denominati la fano marinara la fano gastronomica ora abbiamo la fano outdoor è una forza di attrazione quella esercitata dalla vacanza all'aria aperta all'aria aperta che attira diversi turisti turisti che amano il trekking che amano andare in bicicletta fare escursioni nel territorio che amano il windsurf che amano la vela che chiamano lo yoga e tutto questo in un paesaggio molto bello come quello collinare fluviale e marittimo che ha il nostro territorio e fare yoga all'alzarsi del sole veramente al mattino se uno ha la costanza e la voglia anche di alzarsi presto è veramente suggestivo è veramente bello ebbene queste questa fauna outdoor comprende attività percorrere itinerari di bike moto moto mi grave trekking e tutto di diversa difficoltà c'è un itinerario family quello tra la fano e pesaro oppure una un pochino un pochino più difficile arrivare fino a san costanzo o a mondolfo oppure quelli difficilissimi ma però non impossibili come quelli per arrivare al furlo oppure deviare verso frate rosa mondavio san lorenzo in campo e ridiscendere per la valle del cesano dunque belle iniziative a cui collaborano tante in tante associazioni cittadine che attivano proprio fanno queste 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 iniziative queste attività e di spalla abbiamo invece qui un articolo che riguarda il salvataggio in mare già il comune si è attivato perché poi la stagione turistica quella balneare non è molto lontana e siamo in mese di maggio quindi è molto prossima e allora il comune si è attivato per rifinanziare il salvamento in mare specialmente nelle spiagge liriche un servizio molto molto importante questo visto i ripetuti incidenti perché purtroppo si verificano di anno in anno di persone poco esperte nel nuoto oppure poco prudenti per quanto riguarda l'attività dello stare in mare devo stare in mare in condizioni ideali non andare a fare il bagno dopo mangiato oppure non avventurarsi in mare se non si è molto esperti nel nuoto però vediamo quali sono le novità meno postazioni più soldi per incentivare i potenziali interessati alla gara per il servizio di salvataggio lungo le spiagge libere e scongiurare le rincorse all'ultimo minuto degli ultimi due anni il comune dunque allarga i cordoni della borsa a fronte di un sensibile contingentamento dei presidi i quali scendono sono minori da sette scendono a quattro e che fino a tre anni fa erano più del doppio erano addirittura nove a chi aveva sollevato la difficoltà di fare pari per quanto riguarda le spese e i soldi incassati dal comune ebbene ora sembra addirittura un affare infatti il finanziamento è di 245 mila euro per tre anni 82 mila euro all'anno e se ne erano previsti all'inizio solo 75 mila quindi un incremento in più per le associazioni che possono evidenziare fare le loro proposte e quindi assicurare questo servizio che è veramente fondamentale e poi parliamo nella seconda pagina del Corriere Adriatico ancora di sanità parliamo di ospedale ci sono molte prese di posizioni che sono susseguite alla esposizione della bozza del piano sanitario regionale che la regione Marche ha presentato a Fano nei giorni scorsi lo ha fatto nella sala del gonfalone con la presenza sia del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli sia dell'assessore alla sanità Filippo Saltamartini ebbene sono intervenuti diversi esponenti sono intervenuti esponenti della maggioranza esponenti dell'opposizione sono intervenuti anche dei medici come il primario anzi l'ex primario di medicina interna Gabriele Frausini ora interviene per il partito socialista Tiziano Busca integrazione tra i presidi potenziare le loro vocazioni Busca interviene sulla riforma sanitaria e ridisegna il quadro degli ospedali del territorio ebbene quali sono le indicazioni che socialisti danno al sindaco Seri che gravita insomma nella loro orbita ebbene dice Busca lo invitiamo a istituire e coordinare un tavolo di lavoro con tutte le forze politiche e cittadine per costruire un'unica posizione sull'ospedale Santa Croce in modo da fare fronte comune nei confronti della regione perché poi se si va così in forma sparpagliata non si ottiene nulla quali sono dunque le richieste dice Busca sosteniamo il valore di un progetto di integrazione tra i presidi ospedalieri della provincia occorre però riconoscere la centralità dice sempre Busca dell'ospedale di Pesaro quale hub per quanto riguarda l'urgenza emergenza polo di chirurgia maggiore chirurgia generale ortopedia urologia neurochirurgia e poi cardiologia emodinamica radiologia interventistica di secondo livello con il supporto clinico della medicina interna dedicata al paziente che ha subito delle operazioni ovvero da post chirurgia per quanto riguarda il Santa Croce invece questo dovrebbe essere lab di medicina interna e specialistica e poi bisogna confermare la vocazione di chirurgia specialistica come lo Torino oppure l'oculistica e chirurgia generale in dei ospita con la presenza di servizi radiologia e laboratorio di endoscopia digestiva pneumologia urologia diagnostica beh dopo le specialità insomma si sommano comunque questa suddivisione è quella che propongono i socialisti mentre in realtà l'autonomia a cui è stata di cui è stata restituita l'autonomia insomma a cui è stato restituito il Santa Croce prospetta un ospedale indipendente e integrato in tutte le specialistiche per quanto riguarda i suoi servizi. A fondo pagina abbiamo invece un articolo che riguarda le premiazioni del Gran Galà dell'Oglio che sono svolte sabato scorso mentre ieri ha proseguito la mostra a mercato Expolea appunto dei migliori oli di oliva al pincio di Fano. Gli ori d'Italia e del Mediterraneo le marche si difendono in un contesto nazionale addirittura mediterraneo internazionale pensate che a questo concorso sono intervenuti hanno proposto i loro campioni anche produttori della Turchia della Grecia della Spagna della Croazia insomma una varietà composita di oli di oliva che dimostra un po' come Fano sia diventato veramente un punto di riferimento importante per questo tipo di gastronomia. Comunque la produzione vincitrice in assoluto di tutto il complesso è stata dichiarata è stata dichiarata vediamo un po' l'azienda di Modugno in provincia di Bari che ha prodotto l'olio Mimì Coratina questo è un po' l'azienda agricola leader appunto del territorio si sa che la Puglia ovviamente è la regione più olearia d'Italia. Ed ora passiamo a Mondavio. A Mondavio nasce la rete dei distretti bio sottoscritto il patto nazionale che veramente raccoglie molte aziende che producono prodotti biologici. A Mondavio hanno firmato addirittura 11 dipartimenti su 32 riconosciuti in Italia. L'incontro è stato promosso dal distretto bio terre marchigiane che ha sottoscritto il protocollo con diverse fondazioni. Ne abbiamo un po' da tutte le regioni Lombardia, Lazio, Toscana, Calabria veramente ce n'è di tutti i tipi e di tutte le località. Un passaggio significativo questo verso la realizzazione di una rete nazionale dei distretti biologici e già diverse le adesioni che si sono ottenute ma altre poi ne seguiranno. Questa diffusione dei prodotti mio sta veramente interessando sempre più i consumatori che la privilegiano a quella mai coltivata con i prodotti industriali. E poi a fondo pagina si parla del matatoio di Schieppe, quel matatoio che è stato realizzato molto tempo fa quando il matatoio di Fano è stato chiuso. Ebbene a Schieppe sono arrivati finalmente i fondi regionali e potrà ripartire e verrà gestito da Bovin Marche. Buone notizie dunque per questo matatoio. A seguito di un bando specifico la regione ha messo a disposizione 400 mila euro perché possa essere riattivato al meglio e abbiamo anche la soddisfazione del sindaco Sebastianelli appunto perché questa realtà è importante anche dal punto di vista economico. Giriamo la pagina, siamo a Senigallia, eccola qua abbiamo purtroppo un lutto a Senigallia, si dà l'addio a Marco Mazzanti il re della Tartana, è stato il pioniere del mare d'inverno, il turismo balneare piange questo operatore che è decaduto piuttosto giovane, 61 anni, sconfitto da un male. ha gestito il ristorante e i bagni Virgilio. Ebbene piangono tutti questo operatore che è stato un po' un personaggio di riferimento per quanto riguarda appunto il turismo e l'inocastronomia di Senigallia. E poi un articolo di cronaca attraversa i binari e tira sassate a un passante. Ebbene un uomo per abbreviare il percorso verso casa ha pensato bene di attraversare i binari, un passante lo ha visto, gli ha gridato contro e l'altro per tutta risposta gli ha tirato dei sassi. Comunque sono state avvisate le forze dell'ordine e quest'ultimo è stato raggiunto. al momento non è stato denunciato ma la sua posizione dovrà essere vagliata insomma dagli inquirenti. Ed ora passiamo a qualche notizia di Pesaro dove si parla dei lavori in corso per quanto riguarda l'ex tribunale. Ecco qua il titolo. Riparte l'ex tribunale, un nuovo progetto per riprendere i lavori. A quattro anni dal blocco del cantiere si aggiorna ora il piano esecutivo del 2015. Un adeguamento questo necessario al polo espositivo dove spicca il museo della moto. E' appunto questo stabile che è via San Francesco, la via che da piazzale Matteotti arriva a piazza del popolo. Questo stabile verrà appunto adibito a fini culturali. Qual è la cronistoria? La vediamo qui in questa tabella. Vediamo che per il restauro dell'ex palazzo di giustizia a suo tempo furono stanziati 2 milioni e 300 mila euro. La consegna dei lavori è avvenuta il 25 ottobre del 2018 però insomma fino adesso, fino da quell'ora, da quella data ad oggi insomma la situazione è andata molto molto a rilento. Ad aprile 2019 l'impresa paltatrice di Napoli ha abbandonato il cantiere. I lavori non sono più ripresi e ora il progetto deve essere riaffidato. Ci sarà appunto una nuova gara. Nel frattempo il Comune ha destinato il vecchio Tribunale a futura sede del Museo della Motocicletta. Un museo che a Pesaro ha grande rilevanza. Vediamo anche la sede del Mercato delle Erbe che andrà al Gradari in quanto il vecchio convento della chiesa di San Domenico a Pesaro verrà ristrutturato. Ora si allestisce la futura sede. Con il trasloco in via Gavardini vanno rivisti i costi per le bancarelle. E beh insomma gli operatori dovranno partecipare a questo sforzo economico. C'è anche un trasferimento per quanto riguarda la manifestazione in programma contro il Biolab. No, Biolab. Ora la protesta si sposta da Baia Flaminia a Piazza Stefanini. Il maxiraduno previsto per il primo maggio cambia sede dopo un incontro degli organizzatori in questura. Ebbene si tratta ovviamente del Biolab previsto alla Tombaccia che è oggetto di una grande manifestazione di protesta. La manifestazione non si farà più al campo di Marte a Baia Flaminia ma in Piazza Stefanini nell'area che gravita attorno al Multiplex Giometti e alla Vitifrigo Arena, quindi sempre in periferia. La nuova sede è stata decisa dopo un incontro che gli organizzatori della manifestazione hanno avuto con i funzionari della questura, probabilmente per questioni di sicurezza. Vediamo ancora qualche notizia di Pesaro, vediamo come i bagnini non solo si confrontano con la Bolkestein ma si confrontano anche con problemi più contingenti come quelli del ripascimento delle spiagge, le spiagge che sono ridotte a causa delle mareggiate invernali come estensione e quindi devono essere così riestese nei confronti della battigia. I bagnini mettono le mani avanti, i ripascimenti servono più soldi, il Comune ha già paltato l'intervento ma Andrea Giuliani che è il referente della Confartigianato esprime i suoi timori e le sue richieste. Vediamo anche la pagina di Urbino. La discarica di riceci, l'iter già avviato, stoppa un gigante fuori dal tempo. La provincia pubblica il progetto, ma Carraps, che è il tipico esponente degli ambientalisti, ricorda che movimenterà 200.000 tonnellate a una discarica esagerata, secondo Carraps, che ovviamente procurerà danni all'ambiente. Il progetto della discarica di riceci a Ponte Armellina, nel Comune di Petriano, è stato pubblicato dalla provincia di Pesaro Urbino. E subito appunto ci sono delle proteste per quanto riguarda l'estensione. L'estensione veramente importante di questa struttura sarà 2 milioni e mezzo di metri cubi, impegnerà una superficie di 115.790 metri quadrati, con una superficie di intervento complessiva di 268.000. Questi sono i numeri soltanto per rendere un'idea di quale intervento si andrà a fare nel territorio. A questo punto mettiamo da parte il Corriere Adriatico e diamo un'occhiata al resto del Carlino. Vediamo la sintesi delle notizie in prima pagina. Come sempre il lunedì il resto del Carlino riduce un po' le sue pagine a livello locale. Vediamo subito le notizie della nostra provincia, della provincia di Pesaro. Vigilante sa un euro, lo strano porta aperta. Ci sono persone che vanno a chiedere soldi, che propongono dei contratti, ma la loro posizione viene considerata equivoca. Vigilante sa un euro, lo strano porta a porta. Due individui in divisa, segnalati alle forze dell'ordine, bussano alle porte e propongono contratti da firmare. con delle condizioni veramente convenienti. Un euro al giorno non è molto. E poi abbiamo una via che soffre per quanto riguarda non la sua posizione, perché è molto centrale, ma per quanto riguarda le sue caratteristiche funzionali. È via Zongo. Via Zongo è una traversa di via Branca, non molto lontano da Piazza del Popolo, anzi direi quasi vicinissima, ed era la via che un tempo conduceva al cinema Nuovo Fiore. E quindi era anche una via trafficata. Ovviamente il cinema Nuovo Fiore non esiste più da tanto tempo e questa via sta soffrendo. Negozi chiusi, resiste solo la pizzeria. Qui viene evidenziato. E poi abbiamo una bella iniziativa. Bambini in gara, tra bici, pattini e pallone, la carica dei 300. Per quanto riguarda Ancona, abbiamo un incidente stradale. Un'auto si schianta sulla ferrovia, paura e treni bloccati. Via Flaminia, un 57enne, piomba sulla recinzione e la batte. Danni e detriti sui binari. Linea in tilt per circa un'ora, quindi ritardi anche per il passaggio dei treni. E poi abbiamo sempre la cronaca. Calci e pugni ai carabinieri. Notte di follia per un anconetano che finisce nei guai e poi finisce anche all'ospedale. Senigallia, riviera in lutto. Addio a Marco Mazzanti. L'abbiamo visto sulla pagina delle Corriere. Giolli dell'estate. Per quanto riguarda invece Ascoli Piceno, a San Benedetto. Lega Ambiente difende il parco marino, porterà i benefici al turismo. Grotta Mare, il restyling del lungomare aperto, aperto il primo tratto. E poi a Porto San Giorgio, la città omaggia il patrono. Folla e preghieri alla processione. Vediamo anche la provincia di Macerata. I nodi della sanità, assistenza agli anziani. La mappa in provincia, SOS, liste d'attesa. Qual è quella provincia che non lancia un SOS? Per quanto riguarda la lista d'attesa, che è uno dei problemi più importanti che il nuovo piano sanitario regionale dovrà affrontare e soprattutto dovrà risolvere. A Morovalle si è verificato un incidente in moto sulla superstrada. Ebbene, un 44enne è in condizioni molto, molto gravi. A Porto Recanati sono stati scoperti abusivi nella casa delle vacanze. Una coppia è stata denunciata. Apriamo il giornale sulla pagina dedicata alla nostra provincia e vediamo qui l'articolo che riguarda Via Zongo. Guardate Via Zongo. Via Zongo è molto stretta e poi adesso è ancora più buia dati i lavori che si stanno facendo nel Palazzo dell'Intendenza di Finanza. Questa è la tattoglia che occlude ancora parte della luminosità della Via Zongo. Il deserto, negozi quasi tutti chiusi, resiste la pizzeria, commercianti in fuga ad aggravare la situazione e l'impalcatura per i lavori dell'ex finanza. E poi vediamo qui un ristorante che molti conoscono, è quello della Maria a Novilara. Il pergolato della Maria non basta più, è stata ottenuta una variante per allargarsi nel parcheggio. Ebbene, chi non conosce le tagliatelle della Maria a Novilara, le tagliatelle con i fagioli, che hanno attirato veramente mezzo secolo di clienti. E qua l'articolo dei Vigilantes. Vigilantes bussano alle case, ci sono i ladri, le serve la protezione, dicono appunto ai residenti. E' gente in divisa che fa il porta a porta. Bussano casa per casa, come se fossero esattori delle tasse. Sono due presunti Vigilantes in divisa e macchina di servizio con lampeggiante. Hanno una cadenza campana. Buongiorno signora, siamo della Vigilanza. Lei, come sa, vive in un quartiere a rischio. Furti in continuazione, malintenzionati per strada, gente senza scrupoli che entra nei garage. Siamo qui per dare protezione al quartiere e anche alla sua abitazione. E le propongono un contratto a un euro al giorno. Ebbene, un euro al giorno comunque sono 365 euro all'anno. Alla fine l'importo comincia a essere piuttosto considerevole. Comunque di tutto questo sono state avvisate le forze dell'ordine le quali stanno evidenziando la situazione, monitorando appunto la stessa. raccolti 20 sacche di rifiuti nel parco, trovate anche droga e bici rubate. Condannato un caporale pakistano, sfruttava i connazionali. E prima di chiudere, soltanto qualche notizia di sport. Siamo velocemente in conclusione. Vediamo la visse che torna a sorridere e la spuntata con la Carrarese 1-0. Mentre il Granata, il Fano Calcio, veleggia verso i play-off. Il Fano espugna Genzano, play-off e quarto posto consolidato. Questo per il momento è tutto. Massimo Foghetti vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Buona giornata. Grazie a tutti.